Ma i soldi hanno un effetto amplificatore? Ciao a tutti, siamo di nuovo qui insieme, grazie per esserci ancora una volta su questo canale, sul mio canale, e di questo vi ringrazio come sempre. Oggi parliamo dei soldi, ma non dei soldi tanto per parlare di soldi, no, di quelle persone che da una condizione, diciamo, tranquilla, magari anche sotto la tranquillità, fanno un sacco di soldi. Come cambiano queste persone? Ne parliamo tra un secondo, soltanto per ricordarvi che per sostenere il mio canale basta fare un gesto semplicissimo, gratuito per voi, dura un secondo, mettere un bel pollicione, che io gradisco sempre. Poi l'iscrizione, se mi piacciono gli argomenti che tratto, e poi il campanellone, che io chiamo così sempre per fare rima con gli altri, per attivare tutte le notifiche ogni volta che pubblicherò un nuovo video. Allora, i soldi fanno l'effetto amplificatore, cioè i soldi fanno crescere quello che già si è. Mi spiego meglio. Ci sono persone, e io ne ho conosciute, devo dire, che all'inizio della loro carriera, magari stavano cercando di diventare degli attori, io ne conosco uno in particolare, ma non posso fare il nome, non voglio fare il nome, ma all'inizio della loro carriera erano, come si dice, spiantati e cercavano di arrivare lì, diciamo, al traguardo che si erano prefissi. Hanno faticato, hanno faticato e sono andati, e magari hanno fatto anche un sacco di soldi. Da umili, tranquilli che erano, sono diventati degli emeriti stronzi. Scusate il termine, ma questo è. E allora uno dice, ma sono i soldi che fanno diventare le persone, che cambiano le persone in modo peggiore, o lo erano già prima? Eh sì, perché questo è un eterno dilemma. Io mi sono trovato spesso con persone, appunto, no, che hanno queste caratteristiche. All'inizio della carriera, insomma, sempre molto disponibili, molto gentili, molto collaborative. E poi, man mano, man mano che aumenta il loro successo, cambia anche il loro modo di rapportarsi con gli altri. Diventano non più disponibili, arroganti, prepotenti, indisponibili. Insomma, diventano degli emeriti stronzi, e dobbiamo dircelo. Ma come mai? Secondo me, io ho questa teoria. E cioè che i soldi non fanno altro che amplificare quello che già si è. Nel senso che una persona che ha fatto un sacco di soldi e da umile è diventato stronzo, evidentemente aveva già un piccolo stronzo dentro di sé e soltanto che era assopito, non se lo poteva permettere di fare quello che avrebbe voluto fare, perché fintamente doveva essere disponibile, umile, gentile. E poi i soldi non fanno, non hanno fatto altro che amplificare tutto questo. Quindi io penso questo qui, perché sennò non si spiega. Non si spiega come mai tante persone che hanno fatto una carriera incredibile, hanno fatto un sacco di soldi, sono rimaste umili, anzi forse hanno aumentato la loro umiltà. Sono diventati, come dire, sempre di più alla mano. Se tu li chiami ti rispondono. Io ne conosco tanti, ne conosco in tutti e due i settori. Vi ho parlato all'inizio di uno che io conosco da, credo, da quasi 40 anni, da quasi 40 anni conosco questa persona molto conosciuta, che è diventata, cioè io ho fatto una litigata al telefono con questa persona, incredibile, qualche anno fa, per come si è comportato con me, quando invece, 40 anni fa, era la persona più buona e disponibile del mondo. Viceversa, conosco sempre una persona molto famosa, nell'ambito della comicità, che invece umile era e umile è rimasto, pur avendo fatto una carriera incredibile. Quindi, il mio, e quindi mi voglio confrontare anche con voi, ditemi quello che pensate, commentate questo video, se secondo voi i soldi amplificano quello che già uno è. Cioè, se uno è umile e tranquillo, anche quando farà tanti tanti soldi, rimarrà così, o anzi, addirittura amplificherà, come dicono, la sua umiltà, la sua disponibilità. Oppure, se già era un po' stronzettino, e poi con tanti soldi diventa uno stronzone che non finisce mai, potrebbe essere questa la valutazione, no? E quindi, fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate, soprattutto se anche voi avete avuto esperienze di questo tipo. Cioè, se vi siete imbattuti in persone, che magari avete conosciuto in gioventù e che poi non avete più riconosciuto in, diciamo, in età matura, proprio perché vi siete rincontrati o nel cammin di nostra vita o di vostra vita avete visto questa persona aumentare il suo successo e anche la sua disponibilità economica e trasformarsi in un'altra persona. Fatemelo sapere, perché io ho questo tarlo dentro dal cervello da un sacco di tempo e credo, credo che sia questo. Commentate il video e fatemi sapere le vostre esperienze, se ne avete avute in questo senso, o la vostra idea. Grazie. Ancora una volta vi rammento come si fa a sostenere il mio canale. Beh, è semplice. Come sempre un bel pollicione. Se vi piacciono gli argomenti, l'iscrizione. E poi il pollicione, così attiverete tutte quante le notifiche e ogni volta che arriverà un nuovo video sarete avvisati. Vi ringrazio, vado a fare i soldi e torno. Come sempre. Cioè rimango come sono. Mamma, ciao.